Eccoci ritrovati in studio, terza ed ultima parte di AC News, il nostro notiziario dedicato all'Arezzo Calcio. Andiamo subito a vedere che cosa ci riserva il 33esimo turno del campionato di Serie C, ovviamente nel girone A. Avremo sabato alle 14.30, quindi domani la Pistoiese in casa della Juventus, Sander 23, la Lucchese in casa dell'Olbia, poi la gara Provercelli-Gozzano, sempre alle 14.30 anche Siena-Arzachena. All'orario delle 16.30 invece il Pisa andrà a render visita all'Albissola, poi alle 18.30 Ponte d'Eracunio, alle 20.45 Piacenza-Alessandria e poi per questo turno il posticipo del lunedì alle ore 20.45 sarà quello tra Novara e Virtus Entella. Ricapitoliamo anche la classifica alla vigilia di un nuovo turno di campionato, in testa la Virtus Entella con 60 punti, a questo punto soltanto un match da recuperare. Piacenza 56, Pisa 53 in coabitazione con il Siena, 51 punti la Provercelli e Arezzo, 50 per la Carrarese, 46 la Propatria, 43 il Novara, 39 il Ponte d'Era, a 35 punti troviamo la Juventus Sander 23, a 34 l'Olbia, quota 33 per Alessandria e Gozzano, 30 punti per la Pistoiese, risale a 27 il Cuneo che si posiziona in coabitazione con l'Arzachena, poi a 23 l'Albissola e a 21 la Lucchese. Andiamo adesso invece a vedere che cosa riserva questo weekend anche ai cavallini rampanti del settore giovanile dell'Arezzo, partiamo subito dalla Berretti, dopo aver conquistato matematicamente la scorsa settimana l'accesso alle fasi nazionali del campionato Dante Berretti, l'Under 19 questo fine settimana incontrerà al Siena in trasferta, appuntamento per domani pomeriggio alle ore 15. Tornano in campo anche l'Under 17 e l'Under 15 dopo lo stop di campionato, dopo aver trionfato ad Olbia domenica 31, le formazioni, quella di mister Gioacchini e quella di mister Bernardini, incontreranno tra le mura amiche i nero-azzurri del Pisa. Ancora un turno di fermo invece per l'Under 16 di mister Zussi che rientrerà nel rettangolo verde soltanto domenica 7 aprile in casa dell'Alma Fano. Ultima giornata di campionato invece per l'Under 14 di mister Passalacqua che chiuderà la regular season giocando in casa domenica mattina alle ore 11 contro i pari d'età del Livorno. Turno casalingo invece per l'Under 13 di mister Gorgoni che questa domenica incontrerà gli arancioni della Pistoiese. Weekend di grandi sfide anche per l'Arezzo Calcio Femminile che proprio questo fine settimana chiuderà la seconda fase del campionato regionale Under 15 dal vertice della classifica. Infatti le giovanissime Amaranto di mister Tiziano Pelliccione disputeranno domani pomeriggio alle ore 17 il testa coda contro il Pisa tra le mura amiche dei campi lorentini ad Arezzo in via dei pianeti 10. Cambio di campo invece per la prima squadra di mister Bonci che comincia domenica la propria cavalcata in chiave salvezza a causa dei lavori di manutenzione del manto erboso del comunale città di Arezzo. Le ragazze della serie B giocheranno domenica pomeriggio alle ore 15 allo stadio comunale di Rassina contro le blasonate Empoli Ladies. Continua anche l'impegno rivolto al sociale della società sportiva Arezzo. Ieri mattina una delegazione della prima squadra guidata da mister Alessandro Dalcanto ha fatto visita al centro di socializzazione l'accordo di Subbiano. Capitan Cutolo insieme a Foglia, Pelagatti, Sereni, Benucci, Brunori, Tassi, Basit e Remedi hanno visitato i locali della struttura e hanno donato un pallone, un gaiardetto ufficiale della società sportiva Arezzo autografato da tutti i presenti. I ragazzi e i volontari del centro hanno ricambiato con una colazione preparata nella mensa della struttura e successivamente hanno sfidato i calciatori amaranto a calcio balilla. Al termine della visita mister Dalcanto ha poi invitato tutti gli ospiti del centro alla partita di sabato 27 aprile tra Arezzo e Gozzano. Continua anche la polemica per le squadre B nel campionato di Lega Pro nonostante la contrarietà di tante tifoserie compresa appunto quella amaranto. La riforma riguardante le squadre B sembra destinata a proseguire se non addirittura ad essere potenziata nel corso della prossima stagione. Ne servono almeno sei suddivise equamente nei tre gironi di Lega Pro, ha detto il presidente Ghirelli. La Juventus c'è già, il Torino è pronto, il Milan ci aveva già pensato tra l'altro un anno fa con Marco Simone in panchina. Serve un esperimento per far crescere le nazionali italiane, ha ribadito Ghirelli, un esperimento serio dove mettere in campo un numero significativo di club. Termina qui l'edizione odierna di AC News, l'ultima edizione di questa settimana. Prima di salutarvi vi ricordo questa sera alle ore 19.50 l'appuntamento con Amaranto World, il programma condotto dal direttore di Arezzo Channel Gianni Brunacci. Noi ci ritroveremo lunedì sempre alle 13.20. Grazie per averci seguito e buon fine settimana a tutti voi.